simuliamola anche contro la fiorentina che sa pari punti con noi speriamo bene speriamo bene 2 a 1 bene vicorelli si è fatto male vicorelli si è fatto male il capitano si rompe vediamo per quanto dieci giorni vabbè sicuramente una colluttazione va bene così non ci frega nulla offerta per il trasferimento andrei liberale più 22 milioni sì sicuramente 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 andiamo direttamente qui all'Udinese prossima partita con l'Underlecht si può si deve si deve offerta per il trasferimento di Muscal Benfica delega delega bravo vicorelli pezzella già 7 milioni al Pisa proviamoci proviamoci i secondi giorni disponibili in Olanda un altro portiere che è sempre quello poi Bacher dentro Williams un altro portiere ha 14 anni però 3,50 no un altro portiere no in Olanda è concluso dove lo mandiamo questa volta dove andiamo a Via Lotus Manca solo l'Austria e l'Europa centrale è conclusa conferenza stampa l'Udinese è malissimo l'Udinese è malissimo De Poole Russo ma porca troia a De Poo Minieri C.O.C. mamma mia che rosa cortissima che abbiamo una rosa cortissima benissimo benissimo Gnonto Vicorelli bene Udinese mamma mia sotto a un treno sotto a un treno proprio programma di recita di Vicorelli Vicorelli conclude la sua forma se la quattro settimane niente tocca sta con l'acqua la gola fino a gennaio eh vabbè eh vabbè ragazzi ci vediamo al prossimo dai andiamo a fare stessa partita contro l'Underlecht grazie